dovrebbe diventare a breve fruibile al pubblico noi sin dal momento del mio insediamento io mi sono attivata e abbiamo li ho contati proprio adesso circa 37 distinti incontri per arrivare fino a qui e oggi annunciamo alla città intanto un finanziamento importante di un milione di euro da destinare alla ristrutturazione integrale del palazzo anche all'interno e poi soprattutto anche la ristrutturazione ed il restauro degli antichi barconi che sono veramente un patrimonio straordinario e unico all'interno del nostro territorio ma certamente sarà la volta buona già a partire da quest'anno noi confidiamo di restituire alla visione della città e dalla visione dei turisti il restauratore che proprio con il suo lavoro all'interno di un percorso che sarà non soltanto lavorativo di restauro ma anche didattico e di interesse di richiamo turistico si aprirà la tonnara concretamente si aprirà la loggia della tonnara questi barconi saranno fatti vedere e si potrà ammirare proprio il tempo del lavoro una memoria storica della città di vibo valenza questi bellissimi barconi che vengono restituiti ma soprattutto la suggestione di verificare come questi lavori verranno fatti per il restauro dei barconi stessi il recupero e la riqualificazione della tonnara di vibo marina ha un valore simbolico importante perché è un luogo che rappresenta il fermento produttivo di questo territorio una vocazione territoriale la pesca che viene sfruttata uomini e donne che hanno lavorato per anni e che sono stati gli antesignani della lavorazione del tonno che poi ha portato delle aziende nostre adesso importanti a essere eccellenze del nostro territorio quindi rappresenta sicuramente un momento molto importante la regione calabria intende sostenere naturalmente le vocazioni territoriali per quel che riguarda le marinate di vibo la pesca il turismo ma anche l'attività imprenditoriale di industriale e di fondamentale importanza interveniamo qui con un finanziamento di un milione di euro stiamo lavorando per fare in modo che i depuratori quest'anno funzionano e quindi l'attività turistica possa essere spettata nel migliore dei voti c'è stato un finanziamento di 600 mila euro e quindi verranno manutenute le stazioni di sollevamento che negli scorsi anni hanno avuto e portato parecchi problemi stiamo lavorando per sbloccare il finanziamento per le banchine del porto stiamo lavorando sulle RDS insomma un lavoro particolarmente importante che da qui a poco darà i suoi prodotti questo è l'augurio che il flaghe dello stretto si fa noi oggi per noi oggi è una giornata importante attraverso la convenzione che abbiamo fatto col sindaco del comune di vibo riusciamo finalmente ad iniziare almeno il restauro di uno di questi barconi che servivano appunto per la pesca del tonno pesca che si faceva in un modo come dire crudele attraverso la mattanza ma tuttavia restaurare questo museo significa fare quello che rientra nelle mission del flaghe quello di dare voce alle aree costiere di questa regione che sono un valore economico, sociale e turistico di inestimabile valore ecco questo noi dobbiamo fare e oggi finalmente inizia questo percorso col stauro di una barca che proseguirà con la prossima programmazione comunitaria dopo un percorso che questa amministrazione ha iniziato subito dopo il suo insediamento del 2019 siamo arrivati a dicembre del 2021 a sottoscrivere la convenzione per il finanziamento di un milione di euro con la regione Calabria abbiamo fatto adesso tutti i passaggi che necessitava fare a livello di comunale per il bilancio per fare il capitolo di entrate e d'uscita quindi sono già arrivati 400 mila euro di acconto e adesso stiamo prerisponendo tutti gli atti per l'affidamento dell'incarico di progettazione quindi a breve ci sarà il progettista e poi inizieremo questi lavori all'Atere c'è anche un altro finanziamento del flaghe dello stretto al momento con questa vecchia programmazione di 70 mila euro col quale se tutto va bene a giugno dovremmo iniziare a restaurare il primo antico barcone grazie